Ciao a tutti, oggi vi porto con me al museo d'arte orientale Edoardo Chiussone a Genova una delle più importanti collezioni d'arte orientale presente in Italia e in Europa fondato nel 1905 Ehi, ma quello è Bronzog! Comunque, il museo è dedicato al genovese Edoardo Chiussone che visse a Tokyo tra il 1875 e il 1898 il quale è noto per aver progettato le prime banconote e carte valori giapponesi dirigendo addirittura l'officina imperiale di carte e valori della capitale giapponese La collezione del museo è composta da tantissime bellissime sculture buddiste in legno e bronzo anche di grandi dimensioni, ma anche armi e armature samurai reperti archeologici databili al periodo Yayoi e Kofun maschere del teatro tradizionale giapponese delle stupende porcellane ed eccezionali dipinti e stampe xilografiche in stile Yukioe che però, visto la loro fragilità, vengono esposti solamente per brevi periodi di tempo Grazie a tutti!